Daniele Berti fa anche tutta un'altra serie di osservazioni. Una di queste è Dio fa e l'uomo provvede. Poi vediamo nelle altre, così rispondo una volta sola. Ma non è Daniele Berti che interviene qui nella nuova cosa. Quindi rispondo a questa osservazione che ha fatto Daniele Berti, secondo la quale l'uomo e Dio sono proprio in questa condizione di uno fa e l'altro provvede. Nessuno fa. Il fare, che sembra una cosa fatta, è puramente ideale. Infatti, quando riesci a fare qualcosa, quando parti da qualcosa, ma quando noi partiamo dallo zero, puoi soltanto trasformarlo in una coppia di opposti tra più uno e meno uno. Perché la condizione di Dio in questo mondo è una condizione assolutamente vincente. E Dio in questo mondo è nulla di tutto quello che vedete. Perché è il valore più piccolo che esista. Tanto piccolo da essere addirittura un niente. E allora, quando esiste questo zero, ma che è uno zero potentissimo, allora esiste proprio in una tale potenza da unificare ogni possibile base di riferimento alla potenza zero di questa base. E, però, quello che Dio fa è semplicemente un progetto ideale. Una volta che questo progetto è costruito, esso è interamente in equilibrio. Però è un equilibrio nei lunghi tempi che impiegano proprio l'eternità per un equilibrio. L'uomo che vive relativamente un tempo breve non può vedere un equilibrio. Vede per forza necessariamente uno squilibrio. E di conseguenza, vedendo uno squilibrio, è tentato a riequilibrarlo, a provvedere, come faceva notare Daniele. L'uomo, Dio decide e l'uomo provvede. Dio decide proprio ritornando e facendo tornare a zero tutto il suo disegno. Quindi è una negazione alla verità del disegno, alla verità attiva del disegno. Perché lo attua in passivo. Ossia elimina tutto ciò che è in atto per ricondurlo in potenza. E' l'uomo che vede ciò che è in potenza e lo mette in atto. Quindi l'attuazione del disegno è fatta dall'uomo, il quale uomo la compie, idealizzando le quantità, e quindi arrivando a vedere il mondo reale così come lo vede, grazie solo ai suoi concetti. Perché alla base della costruzione dell'uomo, del mondo, ci sono soltanto i valori numerici che sono le quantità di volte che Dio entra in azione. Questi sono i numeri. Il numero tre indica che il fondamento con cui è costruita l'esistenza è entrato in azione tre volte. Vedete la quantità otto? Significa che il fondamento unico su cui si regge il mondo è presente e attivo otto volte. Quindi voi vedete i numeri e dite cosa sono questi numeri. I numeri sono l'azione divina che appare solo nell'azione uguale e contraria, ma che è questa azione prodotta da un unico ente che virtualmente ha assunto il valore dieci. Quindi quando voi vedete i numeri, sono tutti causati dal dieci. I numeri che invece vede l'uomo sono numeri uguali e contrari, perché non sono dieci elevato a quel numero, ossia quante volte entra in azione Dio. L'uomo Dio in azione non lo vede e vede l'azione umana uguale e contraria e si illude di essere egli chi crea il mondo. E lo crea proprio aggiungendo ai numeri tutta l'idealizzazione che viene dai numeri, in termini di spazio, di tempo, di flusso della massa e di tutte le altre dimensioni. Queste dimensioni della realtà sono tutte dimensioni concettuali. L'uomo che crede nella realtà che vede è un po' un uomo che crede a Babbo Natale, perché sono cose che sono viste soltanto grazie alla concettualizzazione umana data in noi.